Il dottor Gabriele Ferrario, responsabile del raggruppamento e riabilitazione cardiologica della Casa di Cura Eremo di Arco, nei giorni scorsi ha intervenuto in merito alle difficoltà che stanno riscontrando l'unità di cardiologia di Trento e Rovereto. L'Eremo ha da anni nel cassetto un progetto di ampliamento, che al momento appare complesso e difficile da realizzare. La divisione di cardiologia del Santa Chiara ha avanzato l'idea di un sistema che all'occorrenza consenta di ampliare l'accoglienza dei pazienti nei cosiddetti momenti d'urto, ha dichiarato. L'Eremo da anni si propone per esercitare questa funzione e questo ruolo gli viene riconosciuto solo parzialmente. Secondo Gabriele Ferrario a mancare è il buonsenso. Ci si dica allora in che cosa la struttura è carente, commenta, e ci vengano forniti gli standard di qualità. Se si tratta di una questione di costi, la giornata di degenza all'Eremo non costa nulla di più di quella di degenza in ospedale. Grazie.